buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è sabato 30 marzo 2024 ed è il giorno del sabato santo il giorno che precede la pasqua ebbene in questo giorno si commemora la discesa di gesù agli inferi secondo quello che narrano i vangeli gesù scende agli inferi per liberare coloro che sono morti prima di lui ma devo dire che oggi è il giorno dell'attesa il giorno che precede la risurrezione e oggi risuonano ancora le parole di papa francesco che ieri sera ha scritto e sono state poi pronunciate le sue parole durante la via crucis che si è svolta nel nel a roma nei pressi del colosseo sono state pronunciate parole di perdono parole di riscatto parole di salvezza una via predisposta per tutti per ciascuno di noi basta soltanto percorrerla basta volerlo ha detto il papa ebbene con questa piccola riflessione vediamo qual è le previsioni del tempo per iniziare nel modo dovuto alla giornata il tempo si sta rimettendo dobbiamo dire e vediamo come sulle marche ci sarà cieli ci saranno cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata ci saranno anche stratificazioni nuvolose in transito durante la sera i venti saranno al mattino tesi al pomeriggio ugualmente il mare mosso le temperature saranno abbastanza abbastanza serene abbastanza primaverili 10 gradi la minima 20 gradi la massima e il sole è sotto alle 5 e 52 e tramonterà alle 18 e 31 bene ora apriamo i giornali vediamo il resto del carlino sulla pagina di fano e vediamo un articolo che si intona bene con l'atmosfera della pasqua ad amo in campo per i malati oncologici siamo in difficoltà dateci una mano ebbene quale sentimento migliore per quanto riguarda la pasqua se non quello della solidarietà della disponibilità nei confronti degli altri l'appello dell'associazione con campane di cioccolato e colombe pasquali potete contribuire ebbene tutti i fanesi ormai conoscono ad amo un'associazione che offre l'assistenza domiciliare domiciliare ai malati oncologici del tutto gratuita ma dispone anche di un'equipe di professionisti senza i quali l'assistenza non potrebbe essere data professionisti che sono a busta paga insomma e quindi devono essere retribuiti ecco perché ad amo si rivolge a tutta la cittadinanza la cittadinanza di solitamente nei confronti di ad amo è stata sempre così disponibile così pronta a sostenere l'associazione perché poi purtroppo queste malattie sono molto diffuse e insomma molti potrebbero avere bisogno di questa assistenza pensate che dal 2004 ad oggi sono stati oltre 2.700 gli assistiti e in questi giorni sono già 50 i malati oncologici presi in carico dall'associazione quindi è un bel modo di così affrontare di passare la pasqua con un gesto di solidarietà di amicizia di disponibilità vediamo ora le altre notizie e parliamo di cronaca anche nei giorni pasquali non manca non manca la cronaca accidenti malviventi insomma se ne fregano di quello che è l'atmosfera di solidarietà di pace di amicizia che suggerisce la pasqua un violento boato nella notte fanno saltare il banco ma il banco ma è quello del codma quello che c'è in zona chiaruccia è un codma è un banco ma che viene assaltato spesso devo dire a partire al credit agricole però questa volta i malviventi sono stati sfortunati sì perché hanno usato un esplosivo tant'è che il boato ha fatto sussultare durante la notte parecchi residenti di rosciano ed intorni però insomma la cassaforte ha resistito per cui i malviventi non sono riusciti a prelevare nemmeno un centesimo dentro i soldi si sono salvati i danni ovviamente al banco ma te alle telecamere sono stati ingenti e beh dovrà essere tutto ristrutturato però i soldi sono rimasti lì non sono stati rubati ed ora vediamo ancora un'iniziativa di solidarietà che si organizza a mondolfo sul sipario sulla gara podistica di solidarietà per l'autismo e sulla spaghettata si terranno a mondolfo queste iniziative sport solidarietà e gusto andranno a braccetto una sinergia di organizzazione tra l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio e sono tante le associazioni che collaborano a queste iniziative c'è l'avis c'è l'onfalos c'è anche i bikers la asd caraffa sport run e il comitato locale della croce rossa tutti disponibili per organizzare questa corsa che servirà poi per accogliere fondi per la solidarietà sono state presentate la 76esima edizione della spaghettata in programma il 7 aprile e la sesta onfalos alfa marathon gara podistica di solidarietà per l'autismo che si disputerà la domenica successiva la domenica successiva al 7 aprile quindi la spaghettata che viene è un appuntamento così ormai classico canonico per quanto riguarda l'inizio della primavera a mondolfo sono veramente buoni spaghetti di mondolfo per passare un pomeriggio anche una giornata intera in questo delizioso paese torniamo a fano torniamo a fano perché c'è un appello che sorge dalla marineria viene lanciato da tonino giardini che è rappresentante del gruppo pesca per la rimazione di quel relitto affondato nei pressi della banchina del porto di fano è il nettuno lo vedete qui in questa fotografia circondato dalle panne in modo da evitare l'inquinamento appunto della darsena in cui è affondato il proprietario non ne vuol sapere di tirarlo su dovrebbe subentrare l'amministrazione comunale spendendo dei soldi per poi rivalersi sul proprietario ma sono molti molti mesi che questo relitto è affondato nel porto e crea ostacolo alla navigazione tonino giardini dice è pericoloso ed è d'intralcio alla navigazione per gli altri motopescherici che sono costretti a fare manovre supplementari per attraccare alla banchina insomma è un ostacolo che deve essere rimosso e purtroppo nonostante gli appelli e nonostante anche le inviti pressanti che sono stati fatti durante i consigli comunali questo relitto è ancora lì e deve essere veramente rimosso giù l'asilo Brontolo l'asilo Brontolo a Mondolfo Brontolo è il nome di uno dei sette nani in arrivo un nuovo edificio quindi un nuovo asilo nido per tutti i genitori di Mondolfo l'operazione prevede un investimento di un milione 848 mila euro che arriveranno dal PNRR coperto con un bando sarà una struttura più capiente e sicura per consentire l'esecuzione dei lavori gli ospiti del nido i bambini saranno trasferiti prossimamente nell'ex scuola elementare di via Damiano Chiesa a Marotta che fungerà da sede provvisoria per circa due anni fin quanto non verranno completati i lavori ma sapete che quando si prendono i fondi del PNRR ci sono scadenze assolute da osservare perché altrimenti si perdono i finanziamenti quindi sarà una nuova struttura moderna più funzionale per ospitare i bambini sarà di 770 metri quadrati e più tecnologico consentirà fino a 60 iscrizioni quindi un supplemento alla disponibilità per questo importante servizio per tante tante famiglie Passiamo ad Orbino Forum dei ragazzi per discutere di acqua Si tratta dell'Italian Youth Forum 2024 una associazione di giovani che si è agganciata all'UNESCO ed è la più grande al mondo e vede 200 soci provenienti da tutte le regioni e che dal 2017 ha deciso di creare una realtà per promuovere e sensibilizzare i patrimoni italiani ebbene questa associazione si riunisce a Durbino e per così come argomento di coesione si parlerà di acqua acqua è un argomento molto molto importante vedete la crisi per quanto riguarda la siccità vedete quando c'è abbondanza di acqua i problemi delle alluvioni insomma il cambiamento repentino, il cambiamento climatico è un problema che deve raccogliere molte molte sensibilità e soprattutto deve raccogliere una collaborazione di tutte le associazioni, di tutti gli enti, di tutte le istituzioni che hanno competenza per risolvere il problema molte nuove infrastrutture sono solo un consumo di suolo questa è una critica che la Lupus Infabula, l'associazione degli ambientalisti rivolge al piano regionale in quanto ci sono incentivi per quanto riguarda la situazione edilizia regione, Stato, Europa dovrebbero destinare una parte consistente delle loro risorse alla riduzione di suolo invece aiutando le imprese dell'edilizia si agisce in modo contrario ed ecco perché Lupus Infabula protesta vediamo a Fossombrone ci sono polemiche per quanto riguarda la situazione degli ospedali ed è un duro attacco del Comitato nei confronti di Fratelli d'Italia che è nel mirino del Comitato ma anche di rifondazione ebbene, scrive il Comitato non è vero, come afferma Fratelli d'Italia che Fossombrone fosse inesorabilmente destinato alla chiusura si parla ovviamente dell'ospedale come previsto dal piano sanitario ebbene, il piano del PD prevedeva infatti la conferma dell'ospedale di comunità Fossombrone chiuso il 3 dicembre del 2015 dunque non è stata prevista la chiusura esattamente come oggi ebbene, anche Rifondazione insiste su questo problema non è vero, dicono, che il vecchio piano socio-sanitario prevedeva inesorabilmente la chiusura totale del nostro ospedale insomma c'è un batti e ribatti per quanto riguarda la sanità il risultato è che ancora Fossombrone attende dei provvedimenti decisivi, risolutivi per quanto riguarda l'assistenza sanitaria ci vorrebbero più fatti e meno parole ed ora passiamo alla pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata ad un problema che interessa non solo Pesaro ma interessa tutta la nostra provincia tutta la nostra regione e direi anche tutta la nazione italiana emergenza dengue un caso a Pantano isolato all'abitazione del soggetto infettato ebbene, non bastava il coronavirus ora abbiamo anche la zanzara killer che fa così, che ci inocula un nuovo germe, un nuovo virus che dà un'influenza che è veramente può porre la vittima in gravi condizioni ebbene, chi ne ha sofferto è un pesarese che è rientrato dall'Argentina poi è guarito per fortuna ma insomma il sindaco ha deciso di bonificare tutta la zona attorno all'abitazione di questo pesarese per un raggio di 200 metri e ieri sera a San Carlo la processione è stata confinata dentro la chiesa per non correre i rischi questa è una malattia che viene diffusa dalla zanzara tigre quindi basta una puntura per avere questi gradi molto alti di febbre e un malessere generale di debolezza, mal di testa dolori addominali e via dicendo il pesarese è stato punto da una zanzara vettore mentre era all'estero in Argentina la dengue è un'infezione che può avere conseguenze anche gravi soprattutto per i soggetti a rischio e può dare sintomi come dolori addominali vomito, febbre e nausa e nausa per informare i residenti nel tardo pomeriggio di ieri la polizia locale ha battuto a tappeto tutta la zona interessata di Pantano lasciando i volantini con la comunicazione per la profilassi contro la zanzara tigre in modo che ciascuno prevenga questa malattia ed è opportuno poi osservare quello che viene segnalato e questo è un articolo che riguarda non solo Pesaro ma anche Fano che cosa sta facendo la regione per quanto riguarda il bypass della ferrovia che è stato annunciato a grandi titoli anche dai giornali perché potrebbe risolvere un grande un grande problema spostare la ferrovia dalla costa un pochino arretrato verso l'entroterra libererebbe un passaggio bellissimo per tutta la costa tra Fano e Pesaro e sembra che ora la regione abbia espresso un parere negativo intorno a questo progetto veramente una doccia fredda questa è arrivata addosso sul capo dei sindaci di Pesaro e di Fano ebbene il governo Draghi aveva stanziato un miliardo e ottocento milioni per realizzare questo bypass il governo Meloni invece insieme alla regione Marche hanno fatto in modo di prevedere zero euro sul treno e di togliere anche questi soldi stanziati dal governo Draghi e perché perché insomma dice che in realtà bisogna tornare al progetto originario sarebbe questa una dichiarazione che avrebbe fatto il presidente della regione Marche Acquaroli così eliminando tutti i sogni e tutte le illusioni che si erano imbastite attorno a questo progetto non ci provate intima il sindaco di Pesaro Ricci sarebbe una rivolta e addirittura il sindaco di Fano Massimo Seri dice è una scelta suicida totalmente inaccettabile contrattacca il sindaco di Fano mobilitazione immediata significa uccidere la mia città ha detto perché veramente il progetto di spostamento della ferrovia era un progetto desiderato caldeggiato da tutti che avrebbe dato un impulso notevole alla riqualificazione non solo estetica ma anche funzionale della città di Fano e la scuola sarà benedetta lo impone l'ordinanza a Monte Grimano un passo indietro insomma non si può proibire un sacerdote di benedire una scuola il sindaco Rossi emana il documento l'ordinanza che diventa vincolante replica il preside che aveva così vietato per ragioni di laicità questa operazione ho detto no perché non ce l'hanno chiesto in tempi giusti anche qui avrebbero sarebbero avrebbero inciso questioni burocratiche però insomma forse è un problema che sarebbe potuto evitare Miralfiore è colpito al cuore l'operazione trincia tutto non è servita contro lo spaccio ma hanno danneggiato il bosco ebbene sono degli ambientalisti che protestano per quanto riguarda l'operazione un po' drastica forse troppo drastica che è stata attuata nel parco Miralfiore dove si è tagliato di tutto quindi hanno danneggiato ciaspugli alberi tronchi e via dicendo pur di così pulire il parco dai rimasugli della droga e sono rimasugli veramente inquietanti fazzoletti sporchi di sangue siringhe abbandonate insomma veramente ma si poteva procedere con più cautela senza rovinare il tappeto verde ed ora passiamo al corriere adriatico passiamo al corriere adriatico dove si parla ancora del spostamento della ferrovia con questo titolo non toccate i soldi del bypass noi siamo pronti a una rivolta ebbene sono termini molto determinati quelli usati appunto dagli esponenti della nostra provincia che vogliono difendere a tutti i costi il progetto del bypass Ricci fa la voce grossa con lui anche Ceriscioli Lamorani Acquaroli gioca con i fantamiliardi e titola il corriere adriatico il centro-destra si compatta sul tema alta velocità la visione per singoli pezzi non funziona cioè quello che dice fratelli d'Italia è che fare soltanto il bypass a Pesaro e Fano e lasciare tutto inalterato del resto della regione non funziona però intanto si penalizza a queste due realtà che sono realtà importanti Pesaro è la seconda città delle Marche Fano è la terza città delle Marche sopra loro c'è solo ancora quindi voglio dire sono delle realtà importanti per tutta la regione vediamo la pagina di Fano come apertura vediamo che si parla di edilizia in merito alle decisioni del governo Meloni di sospendere il super bonus e di darlo soltanto alle case terremotate Fano ha qualche casa terremotata tant'è che alcune richieste di indennizi sono state presentate all'amministrazione comunale che aveva lanciato un avviso per raccogliere questi dati e poi trasmetterli alla regione ma in realtà tutto il resto rimane in evaso e ci sono delle imprese che hanno attivato i lavori ma che non hanno presentato in tempi giusti il resoconto delle spese che resteranno a metà del guado con lo stop al super bonus c'è aria di crisi per l'edilizia e poi si parla della festa di Madonna Ponte che si festeggerà martedì prossimo il martedì dopo Pasqua una festa tradizionale ne abbiamo parlato anche ieri nella nostra rassegna stampa una festa che quest'anno si organizzerà con un impegno maggiore e una risultanza anche maggiore tante le messe dalle otto del mattino che si prolungheranno anche fino al pomeriggio e tante le iniziative di giochi di festa vera e propria con picnic giochi per bambini lotteria insomma ci sarà tanto di che passare una giornata in allegria e pensate tempo fa il martedì di Pasqua per Fano era una metà festa i negozi chiudevano il pomeriggio per consentire un po' a tutti i cittadini di concentrarsi su Madonna Ponte insomma lasciare un attimo in disparte il centro storico e convenire in questo santuario che ha una lunga storia e una lunga anche pratica di devozione ancora sul Corriere Adriatico si parla della morte di Giuliano Vangi e i suoi riflessi per quanto riguarda Fano 60 opere donate a Fano il comune garante del museo il comune si fa garante per quanto riguarda questa donazione che Vangi avrebbe fatto alla fondazione Carifano per istituire una raccolta delle sue opere a Palazzo Bracci Pagani ebbene il rimpianto per la morte di questo grande artista si riferisce anche alla impossibilità ormai di realizzare quel bellissimo monumento quel bellissimo progetto del monumento a Vitruvio che sarebbe dovuto essere realizzato in piazza a Veduti davanti al cinema Politeama a Torrette il sottopasso insabbiato e degradato incuria per Pasqua ma l'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori rassicura un prossimo intervento ebbene qui il vento la sabbia ha invaso il sottopasso e le fotografie sono molto significative vediamo ancora un articolo che riguarda Fano su quest'altra pagina le auto ancora sostano e transito su due angoli di città recentemente valorizzati recentemente resi più belli e sono piazzale Rosselli e la piazza Marcolini la piazza Marcolini l'ha una bella fontana piazzale Rosselli aiuole nuove illuminazione radente un selciato nuovo ebbene ma continua a essere un parcheggio ed è veramente un peccato perché lì doveva essere un piccolo salottino per la sosta per insomma un piccolo passeggio in realtà questo è rimasto tutto come prima se deve essere un salottino le macchine in un salotto non ci stanno e dovrebbero essere non c'è non c'è il segnale di divieto per cui la sosta è regolare non ci sono problemi da questo punto di vista ma è l'amministrazione comunale che dovrebbe attivarsi e dovrebbe attivarsi anche per togliere il passaggio delle auto su piazza Marcolini perché è inutile che poi lì i bambini giocano magari corrono una palla oppure schiamazzano eccetera però insomma se poi passano le auto la cosa diventa ancora pericolosa e questo è un problema che evidenziano gli ambientalisti e in modo particolare c'è l'ambientalista Vittorio Romeo una guardia ecologica delle laboratorio dello stagno urbani che è una poi delle osi ambientali più belle del nostro territorio che evidenzia questo problema vediamo ancora sulla Val Cesano passiamo a Mondolfo demolito all'asilo Brontolo al suo posto uno più efficiente progettato con 1,8 milioni a cento croci i bambini sistemati intanto in via Damiano Chiesa e abbiamo visto passiamo anche alla pagina di Urbino dove si tratta di questa iniziativa che riguarda l'Italian Youth Forum per discutere di cultura e di sostenibilità una riunione che si svolge nella città Ducale dal 5 al 7 aprile e qui viene presentato un po' il programma e anche le caratteristiche di questa associazione che è un'associazione di giovani volenterosi abbiamo visto come si parlerà di acqua vediamo ora la pagina di Pesaro abbiamo visto come anche il Corriere si interessi della ferrovia vediamo in questa immagine il bypass che si darebbe dovuto realizzare tra Fano e Pesaro la ferrovia che passa per la costa avrebbe così dovuto girare un pochino verso l'entroterra in modo da salvare tutta la costa tra Pesaro e Fano ed è l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che augurarvi una buona Pasqua e noi ci risentiremo con la stampa martedì prossimo grazie per l'ascolto a risentirci grazie per la visione